E' detenuto nel carcere di Foggia Gerardo Tarantino, il bracciante agricolo di 47 anni, fermato nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Tiziana Gentile, la donna di 48 anni, assassinata a Orta Nova con alcune coltellate. L'indagato, come ha riferito il suo legale, l'avvocato Michele Sodrio, non ha risposto alle domande del magistrato, anche se sono numerosi gli indizi a suo carico. Abbiamo sostenuto un brevissimo interrogatorio con il pubblico ministero e, su mia indicazione, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ho trovato una persona, sia ieri sera che questa mattina, in uno stato di grandissima confusione mentale, che però continuava a ripetere ossessivamente «non sono stato io, non sono stato io», hanno arrestato la persona sbagliata. E addirittura si è procurato persino delle lesioni, sbattendo la testa contro il muro, avendo una crisi epilettica, per protestare questa sua innocenza. Certo, ho letto il decreto di fermo del pubblico ministero e riconosco che a carico del mio cliente ci sono degli elementi gravi dal punto di vista indiziario. Però restano molti aspetti da chiarire. Soprattutto io non ho visto e non c'è al momento alcun movente. Quindi questo sarebbe un delitto efferato terribile, senza però alcuna motivazione.